Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Eumetra alla 7 Piazza Polita Formigli sul gradimento dei leader. Voti positivi su ciascun leader da 6 a 10. Vediamo che Giorgia Meloni cresce di un più 4% in poco più di un mese e arriva al 43,4%. Giuseppe Conte cresce del 2,2 al 35,8. Antonio Tajani scende di mezzo punto al 34,2. Ellis Line cresce di 5,2 punti al 33,4. Emma Bonino cresce del 3,7 al 29,5. Matteo Salvini al 25%, Carlo Calenda al 20,9. Roberto Vannacci al 20,3. Nicola Fratoianni al 20,2. e Matteo Renzi come sempre chiude queste classifiche con il 14,1%. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.